Una volta registrato il tuo account cloud ed eseguito il tuo primo ordine, il sistema ti invia un'e-mail di benvenuto che contiene il tuo username Aru e un pulsante per accedere al pannello di controllo. Cliccalo. Ti arriva anche un SMS con il codice di attivazione che dovrai usare come password temporanea per il primo accesso. Inserisci i dati che hai ricevuto e clicca Accedi. Adesso devi scegliere la tua password personalizzata. Dopo aver indicato nella sezione Password attuale il codice di attivazione, scegli una password robusta, facendo in modo che diventino tutti verdi i criteri che vedi sotto. Appena sei convinto della tua scelta, ripetila nel campo successivo e clicca Cambia password. Quando ti viene confermata la modifica, prosegui. Inserisci il tuo username Aru, la nuova password e clicca Accedi. Ecco fatto, sei dentro il tuo pannello. Nella dashboard puoi visualizzare il tuo credito, controllare i tuoi consumi e gestire le opzioni del tuo account, come l'attivazione del codice OTP per un accesso più sicuro, grazie alla nostra app gratuita Aruba OTP e la verifica dei tuoi contatti. Puoi anche creare e configurare nuovi servizi. Da questo menu in alto puoi accedere a ciascuno di essi. Da ogni scheda hai un menu a sinistra dedicato a una sezione relativa all'assistenza, dalla quale puoi controllare le guide, aprire una richiesta e visualizzare i nostri contatti.